Tra le poche banche italiane in grado di compiere un salto di qualità negli anni difficili della pandemia, scalando la classifica degli istituti più solidi e sicuri del panorama nazionale. Sono tutti in crescita gli indicatori che evidenziano l'ottimo stato di salute della BCC di Canusa Locogna, finendo per trovare risalto anche nelle riviste più autorevoli dedicate al mondo dell'economia e della finanza. Abbiamo una rivista nazionale, quale Altro Consumo, con l'inserto Investi, che ci ha riportato fra le quattro banche che sono aumentate dalle quattro stelle alle cinque stelle come classificazione di banche solide e nell'ambito di un'analisi a livello nazionale. Questo chiaramente non può che farci ulteriormente sentire orgogliosi per i risultati e questi erano i risultati del 2020. Sul 2021 i risultati sono ulteriormente aumentati e posso anche dire con estremo orgoglio aumentati, ma sempre nel rispetto dei valori fondamentali del credito cooperativo. Ottimi risultati che vi vado a riportare in qualche modo, soprattutto in quelli che sono stati gli aumenti sia dalla raccolta diretta e ancora più dalla raccolta indiretta, siamo arrivati a circa 200 milioni, come soprattutto anche nell'aumento degli impieghi, questi impieghi sempre molto valutati in maniera attenta, prudenziale, impieghi che ci hanno consentito anche di aumentare significativamente quel margine di intermediazione e l'aspetto che ci porta ancora più orgoglio è quello di essere riusciti a superare quella soglia dei 250 milioni di attivo patrimoniale. Alle porte c'è l'inaugurazione di una nuova filiale a Foggia, una sfida ambiziosa affidata alla gestione della nuova governance della banca. Una nuova governance che è stata individuata per ricercare di trovare quella sintonia, quell'armonia necessaria nell'ambito, armonia e condivisione, totale condivisione necessaria nell'ambito di una governance che deve comunque pensare, lavorare nell'interesse collettivo della banca e senza subire ingerenze di natura esterna. Ci aspetta una sfida importante, ci aspetta una sfida notevole, quella della prossima apertura della filiale nella città di Foggia e dove chiaramente noi sappiamo di andare incontro a una sfida così importante perché una piccola banca come la nostra che deve affrontare spazi così più grandi, più importanti, con competitor sicuramente già consolidati sul territorio, ci sottopone sicuramente a un ulteriore impegno particolarmente decisivo. Il legame con il territorio si consolida anno dopo anno, come nella natura cooperativa dell'istituto. Tante le iniziative culturali e sociali che hanno potuto godere del sostegno della BCC di Canusalocogna, nel 2020 la donazione di 50.000 euro al centro postacuzzie dell'ospedale, nel futuro il desiderio di continuare ad essere un punto di riferimento del territorio. Vi posso garantire che nel 2021, che c'è stata, come tutti sappiamo, una ripresa di tante iniziative socio-culturali, la banca è stata attenta, è stata vicina a tutte le iniziative, a tutte quelle richieste che sono pervenute. In ogni momento e in ogni occasione in cui ci sono richieste che siano di natura sanitaria, che siano di natura socio-culturale, la banca è sempre lì pronta a dare il proprio contributo. La crisi generata dalla pandemia è il futuro reso incerto dalla guerra in Ucraina. L'impegno della BCC, conclude il presidente Sabatino, sarà quello di garantire vicinanza e sostegno ad aziende e famiglie in difficoltà. Abbiamo il dovere, e lo stiamo facendo, e lo stanno facendo, tutta la struttura lo sta facendo, con particolare attenzione per cercare comunque di dare il giusto supporto a quelle realtà aziendali e alle famiglie che certamente non stanno vivendo un momento particolarmente facile.